Una miniera di interessanti curiosità, quasi del tutto inesplorata, è quella delle iscrizioni che trovansi in abbondanza sui marmi e sulle pareti dei luoghi più visitati dai turisti, alle quali iscrizioni, fatte per lo più con la matita, spesso anche graffite, con la punta di un chiodo o di un temperino, gli eruditi, servendosi al solito della lingua greca, hanno inflitto il nome di proscinemi. Ma se la lingua greca torna mirabilmente opportuna per dare un nome conciso a cose nuove che altrimenti non si saprebbero come chiamare, parmi invece inutile ricorrere ad essa quando si tratta di cosa che si può chiaramente designare col comune linguaggio, chiamando perciò semplicemente iscrizioni turistiche. Ho detto che si tratta di una miniera di curiosità quasi del tutto inesplorata, ed avrei potuto mettere il quasi, se alcun poco di tali curiosità già non l'avesse messo in luce Carlo Veneziani. L'egreggio scrittore osservava però che le più sincere impressioni non sono quelle che si leggono nei libri o in articoli di giornali, e neppure quelle scritte per proprio uso e consumo dei viaggiatori sui fogli di un tacquino o sui margini di una qualsiasi guida, bensì sono le impressioni che si rinvengono depositate sui marmi, sulle pareti, sugli usci, sui sassi dei luoghi visitati. Esclamazioni, note, commenti, pensieri, versi, massime consigli, riflessioni, opinioni personali, disegni, scarabocchi e persino bestemmie in tutte le lingue. Il Veneziani non notò che si fatte iscrizioni in massima parte assai insulse, rivelano di solito soltanto la fatuità e la pochezza di spirito di coloro che trovano nello scriverle con piacimento. Ma l'argunto scrittore non ebbe bisogno di fare tale osservazione, data appunto l'insulsaggine delle iscrizioni da lui presentate, e che egli seppe accompagnare con osservazioni psicologiche assai geniali e piacevoli. Giunse persino, applicando a un bel noto e vecchio proverbio la variante dimmi cosa scrivi e ti dirò chi sei, a descriverci mirabilmente gli individui che le scrissero e a metterceli dinanzi veri e vivi, come ad esempio quel poeta affamato al quale le innumerevoli colonne di piazza San Pietro in Roma diedero l'idea di un immenso piatto di maccheroni. Tra queste sciocchezze, tanto facili a trovarsi nei luoghi più visitati, soprattutto abbondano quelle che si riferiscono all'amore che della vita è la più universale ed espansiva esplicazione. Lo stesso Veneziani dichiara che a Pompei, ove immaginava di trovare in abbondanza delle rievocazioni storiche, numerò invece ben 147 frasi sul tipo di «qui ci amammo» e persino la seguente idiota freddura colà depositata da due sposi in viaggio di nozze. «Avendo noi celebrato le nozze con Pompa, c'era indispensabile venire a Pompei». Ma non sempre tutto è un album esclusivo dell'imbecillità, perché nell'immensa quantità di cose insulse o per lo meno insignificanti, non di rado anche indecenti, scritte o graffite su di esso, capita qualche volta di scoprire altresì un pensiero impressionante e che veramente merita di essere raccolto e meditato. Tale mi sembra, per esempio, quello scritto in lingua russa sulla parete della scala che conduce alla sommità del campanile del Tempio di Monreale, presso Palermo, firmato Anna Balcoy e decifrato nel 1894 da Ragusa Moleti, che lo riprodusse tradotto in italiano. Il luogo dove la signora Balcoy scrisse quel suo pensiero, poco al di sopra di un sedile di pietra dove probabilmente si sarà trattenuto a qualche istante a riposare, doveva certo essere ricco di ragnatele, poiché dice così «Il ragno che succhia il cervello di una mosca, nel momento in cui così soddisfa la sua fame, può ben credere alla bontà della provvidenza, ma permettete che la povera mosca, prima di morire, con quel poco di cervello che ancora le rimane, maledica il Dio dei ragni». Evidentemente la signora Balcoy doveva sentirsi una povera mosca e il suo ragno sarà stato allora il governo dello czar, come adesso potrebbe esserlo quello dei successori di Lenin, ma quante eccelse considerazioni potrebbero in vario senso essere suggerite dal pensiero da essa lasciato sopra una parete, dominio di piccoli ragni. Si infatti i proscinemi, che talvolta giungono persino ad essere veri gridi dell'anima, meritano veramente, ripeto, di essere raccolti. Si potrebbe di essi compilare una raccolta assai più varia e gustosa. Basti a questo riguardo ricordare ciò che scrisse il professore Bailà in una relazione da lui presentata nel 1920 all'Accademia delle Iscrizioni di Parigi sui graffiti di Tebe, capitale dell'antico Egitto, tra i quali graffiti, di cui ne esaminò circa 2000, egli rinvenne singolari indicazioni sul turismo nell'Egitto all'epoca gallo-romana. Allora andavano là, scrive il citato autore, come ci vanno adesso artisti, scienziati, poeti, professori, filosofi. Sulle pietre delle tombe regali essi scrivevano impressioni di viaggio, gravi, leggere, spiritose, sciocche, tali e quali, insomma, il turismo inspira ancora nei tempi nostri. Dovrei ora presentare ai lettori i molti gruppi in cui sono riuscito a dividere le numerosissime iscrizioni turistiche in molti anni da me raccolte, se non che, per non ridurne l'esposizione a un arido elenco, volendo di ciascun gruppo riportare qualche esempio, non posso per ora che presentarne qualcuno soltanto. Ho cominciato a formare un primo gruppo con le iscrizioni veramente più semplici e che perciò maggiormente abbondano, quelle cioè consistenti in tutto e per tutto nel nome e cognome del viaggiatore, seguiti al più da una data o da qualche altra non meno semplice indicazione. Goethe lasciò il proprio nome sulla terrazza della cattedrale di Strasburgo. Nel sotterraneo del castello di Sciglion si vede graffito quello di Lord Byron, da lui stesso incisovi. Giosuè Carducci mise con la matita il proprio nome e cognome sulla parete a destra del balcone, che nell'abside della chiesa di San Pietro in Perugia si affaccia sull'Umbria Verde. E i fratti ufficianti quella chiesa, perché la pioggia non cancellasse l'illustre firma, opportunamente la protessero con un vetro. Così nel chiostro della grande chiesa di Sant'Antonio in Padova, intorno alla lastra marmoria dell'iscrizione funeraria dedicata alla memoria del celebre violinista Tartini, morto nel 1770, si vedono scritti con la matita molti nomi di musicisti appassionati, i quali in tal guisa, capitando dinanzi alla sua tomba, con lo stesso sentimento con cui vi poserebbero un fiore, intendono rendergli omaggio e venerare la memoria. Così pure deve considerarsi, quale un semplice attestato di devozione a San Pietro, il grande numero di nomi che nella basilica eretta in Roma a questo santo ricoprono esteriormente la porta murata del Giubileo. Nell'immensa basilica quel punto speciale, che raccoglie tutte quelle firme, sembra veramente una grande pagina d'album continuamente rinnovantesi. Per molti, però, il mettere ovunque la propria firma è una mania che spesso diventa vandalismo, poiché non risparmia e non rispetta neppure le opere d'arte. La detta mania sembra affligga in particolar modo agli europei, poiché si rivela in qualunque parte del mondo e si pongono il piede. Una delle meraviglie del Giappone è la statua colossale di Buddha nel villaggio di Fukazawa, una statua di bronzo notevole altresì come opera d'arte, tanta è l'impressione di calma e di dignità che essa produce. Quanto alle sue dimensioni, basti dire che sebbene Buddha sia rappresentato seduto, con le gambe incrociate secondo l'uso giapponese, quella statua è alta senza contare il piedistallo più di 15 metri. Gli occhi hanno un metro di lunghezza, le orecchie due metri, il dito pollice misura 91 centimetri di circonferenza. Il suo interno è aggiustato a guisa di cappella, alla quale si accede per una grandiosa scalinata esterna dalla parte anteriore del piedistallo. Orbene, il viaggiatore inglese Midford, in un articolo del maggio 1872, scriveva che le pareti di quella sacra cella le trovò disonorate dalle iscrizioni dei visitatori europei, che non rispettarono neppure la pietra del piccolo altare posto nel suo centro, quasi a rappresentarvi il cuore stesso del Buddha. Su quella pietra è incisa in caratteri giapponesi la preghiera del Namonamida Abutsu, salvaci eterno Buddha. Ma il Midford, accanto a questa preghiera, vi dà scritto, viva la Confederazione Svizzera, e sotto a queste parole parecchi nomi e cognomi di commercianti svizzeri. E' impossibile immaginare quanto sia grande il numero di coloro che, per le impressioni prodotte in essi da opere d'arte o della natura, si sentono diventare poeti. Riporto, non perché siano molto notevoli, ma perché molto in armonia con l'argomento che sto trattando, i seguenti versi che Luigi illica, sulla sommità della torre del castello di Montalbo in Valtidone, nella sua natia provincia di Piacenza, scrisse nel 1884, precisamente sopra uno dei plinti che coronano i quattro angoli della torre stessa. Di questa torre, dall'eccelsa cima, d'onde d'Italia si gran parte ammiro, di qualunque altra cosa io veggo, in prima, scritti sui marmi che vi stanno in giro, ignoti nomi di incliti minchioni, che a soddisfar lor misere ambizioni, con mezzi così sciocchi e così frali, presumono di rendersi immortali. Ma in questi tempi di volgar bassezza, di porsi in alto e universal mania, salire alla maggiore altezza, il mezzo non importa qual si sia, quanti ottengono così i titoli e onori, eccellenze, baron, commendatori, che neppur di modesta torre, quale si sia, giammai salirono le scale.